salve salve eccoci qua a commentare un altro provvedimento ANAC molto interessante perché ci apre lo sguardo su una tematica di attualità una tematica ricorrente ma allo stesso tempo appunto di attualità che è quella della rotazione ordinaria per capire il contesto siamo nell'ambito dell'anticorruzione ovviamente dove rotazione ordinaria ricordiamoci sempre ogni volta che troviamo un aggettivo nel diritto significa che esiste un qualcos'altro con un altro aggettivo in particolare la rotazione straordinaria non è altro che il movimentare il personale da un posto all'altro passare un dipendente da un ufficio ad un altro la rotazione straordinaria si verifica quando il dipendente è indagato imputato condannato soggetto a un procedimento penale non necessariamente condannato anche a procedimento in corso per opportunità qualora svolga un ruolo che possa avere riflesso su questo procedimento penale relativo al reato commesso nell'ambito della pubblica amministrazione è opportuno spostarlo la rotazione ordinaria invece non è legata a questo evento particolare ma dovrebbe essere fisiologica quindi cerchiamo di capire a cosa si riferisce l'ANAC in questo provvedimento intanto è un provvedimento rivolto alla regione Lazio l'ANAC ha analizzato la disciplina anticorruzione della regione Lazio e a luglio 2023 scrive al responsabile della prevenzione della corruzione della trasparenza della regione Lazio una raccomandazione raccomandazione è un provvedimento amministrativo che anticipa provvedimenti più seri cioè invita l'amministrazione ad attivarsi per rimuovere irregolarità se non lo fa poi ci sono altri strumenti previsti dal regolamento in particolare sul principio di rotazione allora vediamo nel dettaglio di cosa si tratta con riferimento alla segnalazione acquisita all'ANAC quindi qualcuno ha spifferato un whistleblower un esterno l'opposizione non importa diciamo l'ANAC è venuta a conoscenza 20 aprile 2023 di irregolarità criticità nell'applicazione del principio di rotazione ordinaria del personale dipendente attenzione la rotazione non riguarda soltanto i dirigenti ma tutto il personale dipendente rotazione finalizzata a dare concreta attuazione alle norme anticorruzione rendicontando l'attività svolta dall'ANAC e chiedendo alla regione di integrare il piano anticorruzione con misure di prevenzione considerata la dimensione dell'ente la regione lazio si è difesa dicendo che non aveva possibilità di far ruotare il personale ANAC non ci crede considerata le dimensioni dell'ente immagino regione lazio abbia 6.000 7.000 dipendenti non può essere verosimilmente sostenuto che la parziale attuazione della misura di rotazione ordinaria da parte della regione lazio sia legata a fattori organizzativi all'infungibilità di professionalità specialistiche né all'esiguità di personale cioè non può essere che non puoi cambiare un dipendente perché è bravo a fare quella cosa attenzione adesso vedremo su questo tema che è la scusa principale che usano le amministrazioni ora non mi riferisco a regione lazio in generale siccome un dipendente 20 anni che fa quell'attività è diventato specializzato insostituibile questo è una pecca dell'organizzazione non è un vantaggio non è un valore aggiunto la rotazione ordinaria del personale è una delle misure organizzative generali a efficacia preventiva perché perché per il personale assegnato in settori particolarmente esposti prima considerazione non sto chiedendo alla rotazione a critica indiscriminata quella nei settori esposti appalto pubblico impiego urbanistica edilizia concessioni permessi eccetera eccetera è una misura fondamentale è un criterio organizzativo attenzione questo è il passaggio molto interessante io lo sostengo da da anni criterio organizzativo che può contribuire da un lato alla formazione del personale se io per 20 anni rimango a fare il permesso per la sosta saprò fare solo quello se in 20 anni ho girato 10 uffici saprò fare 10 cose diverse accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore elevando il livello di professionalità dello stesso in relazione alle capacità potenziali e future e dall'altro ad elevare le capacità professionali complessive dell'amministrazione senza che ciò determini inefficienza e malfunzionamenti non c'è dubbio che è così dopodiché si può discutere il caso concreto ma non c'è dubbio che la rotazione è un criterio organizzativo ottimale nella gestione di una azienda pubblica o di un ente pubblico per tale motivo il consiglio dell'autorità ha deliberato di raccomandare all'ente a dare concreta attuazione alla rotazione di dirigenti e funzionari nelle aree a più elevato rischio di corruzione prosegue lo strumento della rotazione non attuato in maniera critica e generalizzata a tutte le posizioni organizzative ma agli ambiti nei quali più elevato è il rischio corruttivo è su quelli che ci si deve concentrare occorre tener presente inoltre che sussistono alcune ipotesi in quella stessa legge che richiede certe professionalità e che solo certi soggetti possono ricoprirle ad esempio l'avvocato per l'iscrizione all'albo l'ingegnere l'architetto ma fuori di questi casi non c'è un obbligo di mantenere un dipendente perché bravo nel settore attenzione a questo passaggio nel caso però in cui si tratti di categorie professionali omogenei il tecnico dell'urbanistica il tecnico dei lavori pubblici l'amministrativo in tutti i settori non si può invocare il concetto di infugibilità l'infugibilità non è soggettiva non è legata alla persona brava è legata al ruolo che svolge alla categoria alle mansioni non alla persona ecco questo è il concetto più rilevante rimane sempre rilevante anche fini della rotazione la valutazione delle attitudini della capacità professionale del singolo ovviamente per stabilire dove dovrà andare a prestare la sua attività lavorativa successiva proprio per prevenire situazioni in cui la rotazione sembrerebbe esclusa da circostanze dovute esclusivamente all'elevata preparazione di determinati dipendenti cioè il ragionamento è questo se tu mi tieni un dipendente per vent'anni lì e poi mi dici che non lo puoi spostare perché l'hai tenuto per vent'anni lì il problema è che l'hai tenuto per vent'anni lì non è la soluzione è il problema se tu attui la rotazione con un meccanismo ordinario previeni questo fenomeno le amministrazioni dovrebbero programmare adeguate attività di affiancamento quel bravo dipendente insegna al successore e poi andrà a fare un'altra attività sempre affiancato da qualcun altro il ricorso alla rotazione deve essere considerato in una logica di necessaria complementarietà con le altre misure di prevenzione non è un qualcosa di optional attenzione quali a titolo esemplificativo la previsione di modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione o rotazione delle attività fra gli operatori quindi anche all'interno dello stesso ufficio si cambia un'attività evitando l'isolamento di certe mansioni avendo cura di favorire la trasparenza interna delle attività e l'articolazione delle competenze cosiddetta segregazione delle funzioni perché è il sistema attraverso il quale poi quella funzione la faccio solo io e quindi sono incontrollabile di fatto guardate a qualunque livello non necessariamente a livello apicale ci sono dei casi in cui fenomeni corruttivi si riferono a livelli più bassi perché quella cosa la fa sa fare soltanto quel dipendente il consiglio ravvisa quindi anche l'opportunità di provvedere all'integrazione del paragrafo dedicato alla rotazione ordinare del PIAO questo è importante perché le amministrazioni che adesso adotteranno il PIAO se non l'hanno già fatto troveranno il PIAO nazionale aggiornato 2023-2025 quindi con queste nuove misure quali sono? Prevedendo esclusivamente nei casi in cui non sia possibile realizzare la rotazione ordinaria misure organizzative che sortiscano un effetto analogo quindi non puoi fare la rotazione ordinaria mi devi dimostrare almeno di aver fatto uno modalità operative che favoriscono una maggiore compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio non lavora uno solo a quella pratica ma più persone nelle aree a maggior rischio per le istruttorie più delicate il meccanismo della condivisione delle fasi procedimentali quindi certe fasi le fanno uffici diversi prevedere una corretta articolazione di compiti e competenze applicare la separazione e contrapposizione dei compiti e ruoli questo è importante spesso in ufficio si deve fare squadra ma l'ufficio è fatto anche di ruoli diversi controllato e controllore anche all'interno dello stesso ufficio quindi niente vieta di dire quella pratica passa al collega che la controlla come se fosse un controllore interno è fisiologico nella logica anticorruzione estensione dei meccanismi della doppia sottoscrizione dei procedimenti non solo un responsabile non solo dirigente ma anche un altro soggetto individuazione di uno più soggetti estranei all'ufficio di competenza con compiti di funzioni di segretario verbalizzante quindi commissioni collegi chiamare un esterno o chiamare un esterno in commissione queste sono tutte misure anticorruzione meccanismi di collaborazione fra diversi ambiti condivisione di fasi procedimentali con l'esterno e misure di articolazione delle competenze segregazione delle funzioni attribuendo a soggetti diversi queste funzioni quindi comunica alla regione lazio che ha 45 giorni per dare riscontro a questo raccomandazione altrimenti si procederà secondo le norme dell'articolo 20 del regolamento quindi vedete nonostante sia anni che anac nel piano anticorruzione nel piano nazionale ribadisca l'importanza di questo ci sono numerose procedure di infrazione nei confronti di amministrazioni che avendolo inserito nel piano non hanno poi attuato la rotazione ordinaria ovviamente per i comuni medio piccoli è impossibile proprio matematicamente ma già sopra i 15.000 abitanti è difficile dimostrare che non si possa fare una rotazione ordinaria del personale quindi questo è un interessante a mio avviso provvedimento che ribadisce un concetto del piano anticorruzione forse sottovalutato sul quale anac sta avviando una seria campagna di controllo verifica e contestazione verso le varie amministrazioni io vi ringrazio vi saluto e ci vediamo alle prossime occasioni arrivederci a presto